Benvenuti su Ultimissima. Prima di cominciare ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nostri prossimi video. Un gesto semplice ma per noi molto importante. Grazie. Denise Pipitone è tornata al centro dell'attenzione con una rivelazione sorprendente dopo 20 anni dalla sua scomparsa. Durante un'apparizione a Domenica Inn, Piera Maggio ha svelato dettagli scioccanti sul caso, mettendo in luce nuovi sviluppi nelle indagini. Piera Maggio, madre di Denise, ha presentato un libro sulla scomparsa della figlia, descrivendo il suo desiderio di raccontare una verità a lungo nascosta. Ha anche fatto una scoperta inquietante a casa sua, delle microspie trovate nelle prese elettriche, che hanno riportato alla luce vecchi timori e interrogativi sulle indagini. Questo evento ha dato il via a nuove inchieste per capire chi possa essere stato a installarle. Ma la rivelazione più sorprendente è giunta quando Piera Maggio ha mostrato una foto di una ragazza somigliante a Denise, scattata molti anni fa. Questo ha riportato speranza nel cuore della madre e ha alimentato ulteriori sforzi per ritrovare la figlia scomparsa. Nonostante le sfide emotive e le cicatrici ancora aperte, Piera Maggio non ha perso la determinazione nel cercare Denise e nel portare avanti la sua ricerca con forza e amore. Nonostante le difficoltà che ha dovuto affrontare nel corso degli anni. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e news. Ciao!